cari amici di dinosauromania benvenuti al nostro primo appuntamento sul canale ufficiale youtube dove vi invito ad iscrivervi semplicemente cliccando sul tastino di iscrizione ed attivando la campanella oggi ci siamo recati in alcuni negozi di abbigliamento e non per scoprire le ultime novità soprattutto per i nostri piccoli ovviamente tutte a tema dinosauri la prima tappa è stata da little dove abbiamo trovato un fantastico pigiama da uomo di jurassic world originale a 11 euro e 99 disponibile nelle taglie dalla s alla l seconda tappa siamo stati da oviesse dove una simpaticissima maglia a maniche lunghe con un dinosauro stampato sul fronte ci ha subito colpito acquistata a soli 6 euro e 99 ed infine terza ed ultima tappa ci siamo catapultati da hm ovvero hm dove abbiamo scoperto le ultime novità della nuova collezione con le long sleeve b pack a 9 euro e 99 nella colorazione verde e grigio con un dinosauro sul fronte e la scritta tirannosaurus rex sulle maniche ed inoltre abbiamo trovato in abbinamento anche i pantaloni sempre nelle colorazioni verde e grigio ed infine ancora fantastiche felpe e malle a manica lunga sempre a tema dinosauri bene ragazzi il video finisce qui se vi è piaciuto lasciate un like ma soprattutto iscrivetevi al canale e restate sintonizzati sui nostri canali social come il gruppo e la pagina facebook dove potrete iscrivervi o lasciare il vostro like seguiteci e ci vediamo al prossimo video ciao da dinosauro mania